Passiamo a parlare della super sportiva, la Karma. Allora, Karma. Karma, noi diciamo spesso all'interno della nostra azienda che a volte si fanno delle azioni, no? Nella vita che poi portano a delle conseguenze. Ecco, se l'azione che abbiamo fatto ci ha portato come gruppo Kelliker ad avere in dote un brand come Karma siamo ben contenti di averla eseguita. Il brand è un brand che richiama le vecchie vetture sportive ma di vecchio è rimasto poco perché la vettura ha un cuore elettrico la vettura è una vettura sicura perché ha tutti gli ADAS che servono ed è una vettura molto qualitativa. La vettura è emozionante, non solo come linee ma anche come prestazioni a 536 cavalli è spinta da un motore elettrico è un range extended quindi significa che il motore termico un 1.5 da 228 cavalli ha la funzione esclusiva di ricarica delle batterie. È una vettura molto emozionante che richiama il nostro DNA e il DNA di Karma quindi quello di sportività, lussuosità. La presenteremo in tre versioni la standard, la luxury e la sport e non vedo l'ora di farla provare a tutti i potenziali clienti italiani. Tra l'altro è prevista anche, tra non molto, la versione full electric. Esattamente, alla fine dell'anno sarà lanciata la versione full electric di cui daremo tutti i particolari a novembre. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.